Ripercorrere la storia di un'oasi tutta molisana, nata 27 anni fa e diventata nel 2010 riserva naturale regionale. È l'obiettivo della giornalista Maria Rosaria Grifone che all'oasi Guardiareggia Campochiaro ha dedicato un libro presentato anche a Isernia. Fiore all'occhiello della riserva, che oggi si colloca per estensione al secondo posto in Italia tra le aree tutelate dal WWF, è l'attività scientifica volta a monitorare flora e fauna, un vero scrigno di biodiversità dunque che ha ispirato l'autrice ormai residente fuori regione ma pronta a riappropriarsi delle proprie origini decantandone i punti di forza. È un territorio, quello dell'oasi WWF Guardiareggia Campochiaro, ricco da vari punti di vista. Dal punto di vista della flora per esempio ci sono oltre 40 tipologie di orchidee selvatiche, solo per fare un esempio, oltre chiaramente ai faggi e le altre piante che normalmente popolano tutto il Matese. Per quanto riguarda la fauna, oltre 300 specie di farfalle diurne e notturne. C'è il cervo nell'area faunistica, c'è il lupo, quindi diciamo c'è una bella varietà. Ci sono anche i rapaci e quindi ho pensato che fosse giusto anche diciamo trasmettere questa mia passione, questo mio amore per la mia terra, tramite un libro che potesse raccontare le bellezze del territorio. Una delle aree di maggior pregio tra quelle gestite dal WWF, ha commentato Pina Negro parlando dell'oasi. Il punto di forza di questa riserva è la naturalità molto accesa, cioè abbiamo una riserva, potremmo dire quasi integrale, perché presenta una biodiversità molto diffusa con specie di animali che sono non solo quelle caratteristiche della zona, ma sono specie che si trovano su tutto l'appenino meridionale in forma ridotta. Questa è una riserva che gestisce il WWF dal 1997 ed è una delle aree naturali di maggior pregio.